Ciao ragazzi, un saluto dell'interesse tedesco. Allora, siete stati numerosi e chiedami, ma interesse tedesco, come mai non hai fatto il video? Francia-Argentina, 7 gol, 4-3, partita spettacolare, come mai non hai fatto il video? Avevo un impegno e onestamente perciò io la partita non l'ho vista. Prima che analizziamo adesso la partita di questa serata a Portogallo-Uroquai, vi voglio presentare un attimino la mia filosofia per fare il video. Allora ragazzi, potete essere sicuri, sicurissimi. Quando io vi faccio un video post partita, significa che io la partita l'ho vista. E significa che io la partita l'ho analizzata e vi voglio sempre portare un contenuto, no? Questa è la cosa importante per me, perché voi mi date fiducia, mi dedicate del tempo, vi iscrivete al mio canale e io vi voglio dare qualcosa indietro. Ho notato che ci sono tanti, adesso forse ai mondiali è un po' diverso, ma in generale, per esempio quando c'è la Serie A e ci sono 5-6 partite in una giornata, c'è gente che tu sai, non è possibile, non hanno potuto guardare tutte queste partite, però per fare le visual, per fare tanti video, per guadagnare, non so, 1 euro 20 per ogni video, fanno dei video vuoti, dove più o meno dicono quello che dicono tutte le notizie, veramente cose, una monotonia incredibile, dicono quello che già si sa, non danno qualcosa di personale, questo a me non piace, stessa cosa per un giocatore, ho fatto il video su Markham, anch'io Markham lo conoscevo poco, cosa ho fatto? Ho cercato tanto materiale, ho studiato una notte intera a questo giocatore, io la Liga non la seguo tanto, normalmente, e poi vi ho fatto il video, c'era tanta gente che l'ha apprezzato, ha detto, ah, finalmente c'è uno che ci racconta qualcosa di interessante, non come dicono tutti, che sparano tutte le stesse cose, la stessa cosa adesso anche per Lautaro Martinez, anch'io questo non lo conosco tanto, tanti di voi mi hanno chiesto, ma fai anche il video su di lui, ragazzi, io fino adesso lo conosco poco, però farò la stessa cosa come ho fatto anche per Markham, cercherò un po' di materiale, un paio di partite che lui ha fatto, lo analizzerò e poi vi farò un video, però, in generale, quando io faccio un video, vi voglio dare un contenuto, non mi piace leggere le notizie o dire quello che dicono tutti, questo non mi piace, perciò questo era il motivo come mai non ho fatto il video di oggi pomeriggio, allora, in generale, ragazzi, parliamo prima di tutto di Cavani, ragazzi, che giocatore, che giocatore, la cosa bellissima, sì, davanti è un killer, anche oggi ha fatto due gol, questo già lo sappiamo, ma anche come lavora indietro Cavani, quanto lavora indietro, quante volte perfino ha pressato Carvaglio in mediana, oppure ha tolto la palla a Cristiano Ronaldo, uno o due volte, veramente incredibile, quello tiene due polmoni, veramente un guerriero incredibile, massimo rispetto per Cavani, spero veramente che l'infortuno non è così grave, che lui possa giocare nella prossima partita, poi, contro la Francia, ha fatto veramente una partita incredibile, purtroppo questo potrebbe essere l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo e anche di Messi, tutti e due adesso sono andati a casa, sarebbe stato bello vederli nel prossimo round, i giocatori più grandi degli ultimi dieci anni, a livello di continuità, a livello di gol, veramente due fenomeni, sarebbe stato bello vederli giocare, incontrarsi nel prossimo round, adesso si incontrano all'aeroporto, vabbè, è andata così. Però, a me non piace la mente corte di alcuni tifosi, ve l'avevo già detto prima del mondiale, che per me non cambia niente, anche se Messi fa zero gol, Ronaldo fa zero gol, per me sono due fenomeni, due fenomeni incredibili. A me non piace il tifoso medio, come cambia così velocemente, no? Un esempio che vi do è Cristiano Ronaldo, no? Prima partita ha fatto tre gol contro la Spagna e tutti, ah, Ronaldo, questo fenomeno! Poi ha fatto un gol contro il Marocco e c'erano anche i youtuber che hanno detto adesso, in questo momento, con questo gol contro il Marocco, Ronaldo è diventato il giocatore più forte di tutti i tempi. Poi, dopo questo gol, 86 minuti contro il Marocco, non ha più fatto niente. Poi contro l'Iran ha sbagliato un rigore che se lo segnava la strada per il suo Portogallo poteva forse essere un po' più facile, perciò sicuramente fa male che l'ha sbagliato questo rigore e oggi contro l'Urqua parleremo della sua prestazione, però non ha segnato di nuovo. E adesso c'è tanta gente che ho letto che dice adesso Ronaldo ha fatto un mondiale di merda, adesso Ronaldo è diventato mezzo scarso. E questo è veramente qualcosa di incredibile, ragazzi, come la mente è corta di tanti tifosi e come tutto può cambiare così velocemente nel calcio. Basta veramente una partita, due partite non al top, poi, adesso ripeto, parleremo della sua prestazione, ma due partite forse dove non fai il gol decisivo e tutti cambiano in maniera incredibile. Questo a me non piace. Ragazzi, Messi e Ronaldo sono dei fenomeni, anche se non avessero neanche segnato un gol in questo mondiale per me non cambierebbe niente, proprio niente. Parliamo della prestazione di Ronaldo oggi, ragazzi. Un'altra volta abbiamo visto i limiti del Portogallo, tutto concentrato su di lui, lui ci ha provato, ha fatto tanti dribbling, ha provato di saltare l'uomo, poi ha anche giocato da leader, da capitano, dopo il primo tempo si era visto che lui ha chiamato tutti i compagni, c'era un traduttore che ci ha tradotto quello che ha detto nella sua lingua, che ha detto, ragazzi dovete tentare qualcosa, dovete anche rischiare qualcosa, perché sempre Portogallo con tanto possesso di palla, ma un gioco molto molto prevedibile, l'unico che ci ha un po' provato è stato Cristiano Ronaldo, ma non è facile, quando tutti lo sanno, tu sei l'unico giocatore che può fare la differenza e sono tutti su di te, tutti su di te. C'erano sempre 3-4 giocatori contro Cristiano Ronaldo e poi certe volte lo devo anche ammettere con questi dribbling, lui ha anche rallentato un po' la manovra, però cosa deve fare? Cosa deve fare? Perciò forse alcuni diranno, allora è meglio giocare senza uno come Ronaldo perché il gioco è troppo prevedibile, questo io dico proprio di no, perché anche Igor, per esempio, che ha fatto il Portogallo, che ha fatto Pepe, nella mia opinione è anche merito di Cristiano Ronaldo. Queste cose piccole, tante persone non li vedono perché giudicano, prendono la app OneFootball, vedono solo chi ha segnato il gol e giudicano il calcio, giudicano i giocatori solo con i numeri, solo con le statistiche, che è sbagliatissimo. Come mai Ronaldo ha meritato, ha un po' di merito per il gol che ha fatto il Portogallo, perché lì, per esempio, c'erano tre o quattro giocatori, tutti concentrati su Cristiano Ronaldo, lui ha fatto un salto incredibile e perciò si hanno dimenticato di difendere contro Pepe. E questo è quello che uno come Ronaldo, in una partita come oggi, può fare, però poi c'è bisogno anche dei compagni, perché se tu sei un fuoriclasse, se tutti si concentrano su di te, tu puoi fare una manovra, qualcosa che poi dall'altro lato c'è un po' di spazio per gli altri compagni, perciò io ho notato spesso anche quando c'è un angolo che Cristiano Ronaldo, anche se la palla è lontanissima, non la può raggiungere, lui salta, lui salta perché crea confusione. Perciò, nella mia opinione, Ronaldo ha fatto una buona partita, non è colpa sua, c'erano sempre tre o quattro giocatori contro di lui, lui ha provato di creare confusione, lui ha provato di saltare l'uomo, ha provato di tirare, ha fatto tutto, cosa deve fare di più? Cosa deve fare di più? La stessa cosa adesso Messi non l'ho visto, ma posso immaginare che è un po', vabbè, poi l'Argentina ha più giocatori di qualità, però non mi piace criticare un giocatore solo quando vediamo i numeri, questo è sbagliatissimo ragazzi, questo è veramente sbagliatissimo, ovviamente fa male adesso a Messi che non ha portato questo titolo alla sua Argentina, Maradona, Mateos, Pelé, hanno tutti vinti questo titolo, anche Ronaldo almeno campione d'Europa è diventato, a Messi questo sicuramente gli manca, però ripeto, il sport e il calcio, questa è anche una cosa bella, è uno sport di squadra, è uno sport di squadra e non basta un singolo fenomeno, un singolo giocatore fortissimo, perciò andiamo piano con queste esagerazioni, adesso Ronaldo ha fatto un gol, è diventato il più grande giocatore di tutti i tempi, poi in due partite dove tutti su di lui, tutti che lo difendono, lui poveraccio cosa deve fare, poi ci sono già le prime voci, ah vabbè ma così forte poi lui non è neanche, sbagliatissimo questo atteggiamento, sbagliatissimo, ragazzi complimenti all'Uroquai, io ho fatto i miei complimenti alla Croazia che è un paese piccolissimo con 4 milioni di abitanti, l'Uroquai c'è ancora di meno, c'è 3,7 milioni di abitanti, grandi come Berlino, e ci hanno giocatori con una difesa lì dell'Atletico Madrid, veramente bellissima, fortissima, hanno preso un gol, ci hanno la difesa più forte di questo torneo fino adesso, e poi in attacco su Rescavani, tanta tanta qualità, perciò tanto rispetto per questo paese, per questa nazionale, anche l'allenatore mi ha fatto un po' commuovere, si vede che c'è una brutta brutta malattia, non riesce a camminare bene, però ci sta ed ha veramente anche tatticamente l'Uroquai, ha giocato in maniera molto molto intelligente, perciò tanta tanta stima per questa squadra, ragazzi iscrivetevi al canale di Youtube, ci vediamo in un prossimo video, niente ragazzi vi voglio bene, ciao!